I miei primi passi nel mondo della comicità Dunque, sin da bambino sono sempre stato molto estroso Però il vero e proprio primo incontro con la comicità No, in realtà aspetta, sin da bambino proprio amavo la comicità e il film horror Poi probabilmente crescendo ho abbinato le due cose facendo satira Che se ci pensate è un po' un abbinamento Nel senso che guardavo molto i film di Fantozzi e poi i film di Chaplin Era un grande fan di Charlotte da bambino Pur essendo nato nell'84 e non nel 24, però era un grande fan di Charlie Chaplin Però proprio la vera folgorazione con la comicità è avvenuta a 13 anni con Woody Allen Per la precisione con i libri di Woody Allen Perché ho conosciuto Woody Allen prima con i racconti e poi ho visto i film E io sono rimasto folgorato, poi a quell'età, a 13 anni Quell'età in cui vuoi emulare qualcosa È l'età dell'emulazione, vuoi sempre emulare qualcuno Sarebbe stato più logico che io volessi emulare Leonardo Di Caprio Gli anni di Titanic, chissà perché io invece ho deciso emulare Woody Allen Ho sbagliato tutto, pazienza Comunque fatto sta che quell'anno facevo la terza media Mi proposero appunto, perché ero sempre stato piuttosto estroso di mio Di presentare il concerto di Natale E accettai e mi scrissi io le presentazioni Infarcendole di spiritosagini, di tentativi Immagino molto maldestri, fortunatamente ho perso i manoscritti di quella roba Comunque tentativi molto maldestri, di battute alla Woody Allen Infatti da un tredicenne, una roba pietosa Fatto sta che funzionò, funzionò Io ero molto ispirato perché all'epoca mi ero innamorato per la prima volta Era anche l'epoca del primo amore Lei non ricambiò, però gli altri ridevano Forse anche del fatto che lei non ricambiava Quindi è lì ho cominciato Di fatto ho passato l'intera adolescenza a scrivere cose pensando che fossero divertenti E poi forse lo erano perché alla fine a 18 anni mi sono presentato così A un'audizione con Serena Dandini Con questo faldone di roba scritta durante l'adolescenza E mi hanno preso come autore E io quindi ho cominciato ufficialmente proprio professionista della comicità Vedete Io credo che la colpa di questo calo generale della libido Sia dovuta ai nuovi costumi sessuali Dico davvero Il fatto che ora i nuovi costumi sessuali Viva Dio Consentono a tutti di scopare con tutti In realtà questa cosa invece che liberarci Ci ha inibiti Ancora di più Perché in realtà siamo timidi E quindi questa grande libertà sessuale ci ha tutti quanti inibiti E allora io so già di dire una cosa molto impopolare Ma la dico con assoluta convinzione Basta con la teoria gender Basta con la teoria gender Che si passi alla pratica Che è tutta sta teoria Che si passi alla pratica Tutti fluidi Tutti fluidi E poi vanno a letta alle 10 E poi vanno a letta alle 10 Oh! Ma che è sto sonno? Che c'avete tutti quanti? Che è? Che volete tutti andare a dormire? Ma che va preso? Che io non sono stanco Sono stanco anche io Mi do gli schiaffi in faccia Sto a sveglio e faccio serata E scopiamo Oh scopiamo adesso Dopo non ci sarà più tempo Saremo morti E adesso Che dobbiamo scopare Cosa cazzo riti? Rosa chemical Rosa chemical Che sale sul palco dell'Ariston Con un plug anale in mano Tutti a gridare allo scandalo Ma quale scandalo? Quel coso va nel culo Non in mano Coglione 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 Siamo circondati Dai sex toys E neanche li sappiamo usare Usiamo i vibratori Come mini pimer O viceversa Che cazzo fate? Che cosa vi ha preso A tutti quanti? Perché non scopate più? Perché mi avete lasciato solo? Ragazzi io ve lo dico Ok abbiamo fatto anche questa esperienza di castità Bello No Adesso basta Questa è un'emergenza Ok come la pandemia Anche questa è un'emergenza È un'emergenza sessuale E proprio come la pandemia Noi la dobbiamo affrontare Cominciando dalle regole sociali Prima cosa Distanziamento sociale Fra le persone Meno di mezzo centimetro Tutti così Tutti così E vedrai che qualcosa ci scappa Obbligo di mascherina Ma al posto delle mutande La chirurgica Effetto tanga Ok Poi come c'era la raccomandazione Lavarsi spesso le mani Adesso ci sarà la raccomandazione A farsi spesso un bidet All'entrata Ai locali pubblici Sarà il dispenser di Sapone Intimo Uno entra in ristorante Si dà Una bella ripassata Spot di Amadeus Che raccomanda di venire nel gomito Se no lei sta incinta Lockdown Ma non in casa In camera da letto E non da soli Non da soli Obbligo di assembramento Fra le lenzuola Almeno in tre Sex pass All'entrata dei locali Se non hai scopato Non entri Fai vedere Non hai scopato Vai a scopare Se no non vai al ristorante Non vai al bar Non vai dal barbiere Devi scopare almeno tre volte Forza Se no non entri Se no non entri E alle 18 Bollettino del cts Terza dose Terza dose Poi si scopa Per fasce d'età Prima Ovvero tante fragili Che quelli lo scopano subito Non scopano più E poi da lì a scendere Si riparte di silancio Ma allora La comicità Secondo me Può essere acquisibile O meglio Può essere allenata Ecco Questo si È come un muscoletto Che tutti abbiamo Flaccido Ma che tutti possiamo Tonificare Da qui però Ad essere atleti Della comicità Si forse ci vuole anche Un pizzico di Di talento Di genetica Nel mio caso Io sono condannato A essere un comico Dal mio DNA Perché lo vedete Anche voi Sono ridicolo E quindi O faccio questo O comunque Questo Fa me Allora un pezzo comico Per me Perché poi ovviamente Ogni comico Avrà il suo modo Di La sua gestazione Diciamo Un pezzo comico Per me un pezzo comico Nasce dall'esigenza Di doverne scrivere Di nuovi Fondamentalmente Cioè C'è sempre un momento Dell'anno In cui dico Beh Magari potrei scrivere Qualcosa di nuovo E nel frattempo Magari mi si sono Accumulate delle idee Delle osservazioni Perché di solito Nella mia testa È come se Nascessero dei brufoli Non fai niente Non è che fai qualcosa Perché ti vengono fuori Dei brufoli Una mattina ti svegli E ti guardi allo specchio E dici Oh mio Dio Ho un brufolo Più o meno Succede la stessa cosa Dentro la mia testa Una mattina Mi sveglio Ho un'idea In testa Un foruncolo E dico Oh mio Dio Ho un'idea Quell'idea La lascio lì A maturazione Dico sempre che lascio Più che decantare Lascio mantecare Nella testa Questa idea In qualche modo E quindi si soffrigge E in questa soffrittura Diciamo l'idea Diventa dorata Proprio come la cipolla Quando la soffriggi E quindi comincia A prendere questa forma Di battute Pensieri Più o meno paragrafi Qualche immagine Quando senti Sento Che nella testa Ci siamo A quel punto Verso su foglio E sistemo E poi si va sul palco Ci pensate mai Al fatto che noi Finiremo Sui libri di storia Non sto scherzando Ci pensate mai Noi finiremo Sui libri di storia Vuol dire La nostra generazione Ha già visto L'11 settembre Il terrorismo globale Una crisi economica Mondiale La rivoluzione digitale E adesso Una pandemia I cambiamenti climatici E una terza guerra Mondiale Nucleare In futuro I libri di storia Parleranno Di noi E diranno Che eravamo Degli egocentrici Bulimici Malati Di protagonismo Che volevano fare Tutti gli eventi storici Noi E' incredibile Cioè ok La storia siamo noi Ma lasciamone un pochino Anche agli altri Voglio dire Stiamo bruciando Tutto subito Cos'è Soltanto pochi mesi fa Gli Stati Uniti Hanno annunciato La fusione nucleare Una tecnica Incredibile Una tecnica Rivoluzionaria Che ci consentirà Di produrre Energia pulita E illimitata Ma fra Trent'anni Cioè abbiamo Spoilerato Alle generazioni Future Ciò che succederà Pur di finirci Noi Sui libri di storia Per dirvi che razza Di malati Di protagonismo Che siamo diventati In futuro Sui libri di storia Ci saranno I sumeri Babilonesi Gli etruschi Nazisti E noi L'età della pietra L'età del ferro E poi la nostra L'età della merda E io mi chiedo Come faranno però Gli archeologi del futuro A ricostruire Le nostre vite Voglio dire Ormai Tutte le nostre vite Sono digitali Parliamo online Paghiamo online Abbiamo orgasmi online Basterebbe bombardare Dei server Che la nostra civiltà Verrebbe completamente Spazzata via Almeno La generazione precedente Alla nostra Quella dei nostri genitori Ha lasciato la plastica Quella Non scomparirà mai Gli archeologi Del 3000 L'Alberto Angela Del 3000 Quando scaveranno Troveranno queste Buste della Conad Intatte E che piranno Perfettamente Come vivevano Le generazioni Precedente alla nostra Cosa sognavano Qual era Il loro stile di vita Noi invece Che siamo circondati Da questi oggetti Biodegradabili Compostabili In ecoplastica Di noi non resterà niente Nulla Non resterà nulla Adesso ci vestiamo anche Second hand No? Con abiti Appartenuti A generazioni precedenti Alla nostra Con il risultato Che gli archeologi Del futuro Quando scriveranno E troveranno i nostri vestiti Li attribuiranno Ad epoche passate E di noi diranno Che andavamo in giro Nudi Ecco cosa diranno di noi Non stiamo Lasciando testimonianza Scritta Della nostra civiltà Della nostra generazione Perché tutto ciò Che scriviamo È online Quindi se bombardano i server È finita Oh Ammesso che non bombardano i server Resterebbero appunto Le cose che scriviamo online Cioè I nostri post Sui social Le chat Le email Cioè testi incomprensibili Con le parole precedute Da cancelletto Che finiscono con l'asterisco E in mezzo con delle emoticons Dei meme La schwa La schwa In futuro di noi Diranno che eravamo così analfabeti Che neanche sapevamo scrivere la E dritta Questo diranno di noi in futuro Questo diranno di noi E allora io mi chiedo Anzi Vi chiedo Chiediamoci Come vogliamo finirci Su questi libri di storia Perché Che finiamo sui libri di storia Ormai è evidente Ma a questo punto Dobbiamo chiederci Come vogliamo finirci Ma proprio Intendo proprio A livello di decoro Di presentabilità Nel senso Io sono cresciuto con mia madre Che mi diceva sempre Quando ero bambino Mi raccomando Canditi le mutande Che se ti mettono sotto per strada Che figura fai in ospedale Questi erano i valori a casa mia Ok Vergogna peggio della morte Ok La vergogna È peggio della morte Questi erano i valori A casa mia Era così Mia madre mi ha cresciuto così Signora Suo figlio è morto Le mutande pulite Ah ok Questi erano i valori a casa mia Ok E io li ho introiettati Questi valori Credo anch'io nel decoro Come un valore E allora io Vi invito Chiediamoci Come vogliamo finire Sui libri di storia A proprio livello Di presentabilità Voglio dire Se noi chiudiamo gli occhi E dico Antica Roma Noi immaginiamo immediatamente La gente Con delle tuniche I pepli Se chiudiamo gli occhi Dico medioevo Immaginiamo dei cavalieri Con l'armatura Su un cavallo Noi oggi invece Stiamo tutti quanti In tuta Ma da quando Abbiamo sdoganato La tuta Da ginnastica Al di fuori Dell'ora di ginnastica Quando è successo Cosa mi sono perso Perché adesso Stiamo tutti quanti Sempre in tuta Adesso se Un alieno Scendesse sulla terra E si guardasse in giro Penserebbe che c'è stato Un colpo di stato E che ora è il potere Detenuto dagli insegnanti Di educazione fisica Un golpe dell'Isef Stiamo sempre in tuta Tra l'altro ci mettiamo Seguite il mio ragionamento Ci mettiamo in tuta Da ginnastica Per metterci sul divano A guardare una serie In tuta da ginnastica Per metterci sul divano Lo sentite anche voi Il salto logico C'è un gradino logico Grosso così Ok Ma non solo Stiamo sempre in tuta Ma stiamo sempre Con le scarpe Da ginnastica Ai piedi Voi avete le scarpe Da ginnastica Stasera Per stare seduti Lo capite che non ha senso I ciccioni Portano le scarpe Da ginnastica Non ha senso Cosa sono Delle creature mitologiche Metà ciccioni Metà da ginnastica Non ha senso Evidentemente non funzionano O qualcosa non ha funzionato Dalla carta al palco In realtà il passaggio Deve essere secondo me Abbastanza immediato Nel senso che io intanto Scrivo come parlo Che secondo me Il primo trucchetto Quando si scrive Stand up comedy È sempre scrivere Pensando a una cosa Che devi dire Non a una cosa Che gli altri devono leggere E questo è il primo trucchetto Quindi una volta Che il pezzo c'è Si sale sul palco E si prova subito a farlo Anche perché Il palco a sua volta È una fase di scrittura È un pezzo di stand up comedy Almeno per me Non è mai veramente chiuso È un pezzo jazz Continui a improvvisarci dentro Quella è la traccia Quella è la melodia Quella è la sessione ritmica Poi dentro però Ci puoi anche improvvisare In base al pubblico In base alla situazione In base all'ispirazione della serata Quindi di fatto È come se la scrittura Non finisse mai La performance live È un altro ulteriore Momento di scrittura Solo che in quel caso Non scrivi con i tasti Ma scrivi proprio Sulla pelle Degli spettatori Praticamente Sono un tatuatore Allora Sulla questione Il politicamente corretto Mi fa sempre un po' ridere Quei colleghi Che se ne lamentano Perché in realtà Voglio dire Ci sono sempre stati Dei Chiamiamoli Limiti Per la comicità Nel senso che Da che mondo è mondo Esistono dei tabù E Però attenzione Il lavoro del comico È proprio quello di Andare dove stanno Quei tabù E fare il dispettoso Cercare di superare Quei tabù Toccarli E poi dire Ops Non sono stato io Questo è normale Quindi anzi Da comico Sono contento Che adesso ci sia Questo Chiamiamolo politicamente corretto Cancel culture Come vi pare Perché È ovviamente Un'altra forma di censura Sufficientemente Ipocrita Da essere ridicola E quindi È divertente Per un comico Doversi confrontare Con questi Con questi Con questi Limiti I limiti Che poi di fatto Non esistono O meglio Il limite La comicità Li fissa Il talento Del comico Nell'essere in grado Di far ridere Di certe cose E la disponibilità Del pubblico A ridere Di certe cose Quindi i limiti Sono costantemente In contrattazione Negli anni Nei secoli Ma anche di sera In sera Di club in club In base All'umore Al talento Del comico E all'umore E alla disponibilità Del pubblico Quanti fra voi Hanno votato Giorgia Meloni? Forza Per alzate di mano Quanti fra voi? Adesso Adesso Già nessuno Adesso Già nessuno Già nessuno Vedi? Eccola là Eccola lì Lei Grande Grande Arianna Bene Spieghiamoglielo Spieghiamolo A questi Rincoglioniti Che noi abbiamo Votato Giorgia Meloni Perché Giorgia Meloni Era La candidata Di sinistra Giorgia Meloni È di sinistra Ma come no? Ma certo Giorgia Meloni È di sinistra Voglio dire Giorgia Meloni È nata in periferia Da sempre zona No? Ad appannaggio Della sinistra È stata cresciuta Soltanto dalla madre Perché il padre L'ha abbandonata Quindi è cresciuta All'interno Di una famiglia Non tradizionale Ha avuto Una figlia Al di fuori Del matrimonio Quindi a sua volta Ha messo su Una famiglia Non tradizionale È la prima Donna premier Giorgia Meloni È chiaramente Una figura Di sinistra E anche questo fatto Che questa battaglia Per farsi chiamare Il presidente Del consiglio Non la Presidente Del consiglio Il presidente Del consiglio È chiaramente Una battaglia Di sinistra Giorgia Meloni Sta facendo Un percorso Di transizione Presto ci chiederà Anche di essere Chiamata Giorgio Sta già Apprendendo gli ormoni Si sente dalla voce E ci vuole rispetto Ci vuole rispetto Per chi sta affrontando Un percorso Del genere E poi diciamoci la verità Anch'io fossi stata In Giorgia In Giorgio Scusate Dobbiamo abituarci A rispettare Questa sua Questa sua Nuova identità Anch'io fossi stata In lui Mi sarei Rivolto Agli elettori Di destra Perché diciamoci la verità In Italia Peggio degli elettori Di destra Ci sono soltanto Gli elettori Di sinistra Gli elettori Di sinistra Sono sempre Delusi Gli elettori Di sinistra Sono sempre Traditi Il candidato Di sinistra Non è mai Abbastanza Di sinistra Come lo vorrebbe L'elettore Di sinistra Io sono convinto Che nel segreto Dell'urna Anche i rappresentanti Del PD Hanno votato Giorgia Meloni Per fare un dispetto Agli elettori Di sinistra Avete lotto il cazzo Tiè beccatevele La Meloni Vaffanculo Adesso voglio Proprio vedere Come fate Con Ellie Schlein Come cazzo fate Donna Giovane Lesbica C'ho pure L'armocromia Che cazzo Gli trovate Adesso Che non va bene Voglio proprio vedere Quando perderà Le elezioni Perché ne perderà Anche lei Le elezioni Voglio proprio vedere Che cazzo Vi inventerete La leccava male Che cazzo direte Che cazzo Vi inventerete Voglio proprio vedere Dalla campagna elettorale Che sostengo Che Giorgia Meloni È la candidata Di sinistra E tutti gli amici A dirmi Ma Saverio Che cazzo Stai dicendo Che cos'hai Un ictus Non è possibile Tu la pensi In questo modo Mi prendevano in giro Adesso invece Si sono dovuti ricredere Adesso hanno cominciato Anche gli amici A darmi ragione A dirmi Hai ragione Saverio È vero Giorgia Meloni È di sinistra Quando hanno visto La prima finanziaria Del governo Meloni All'interno della quale Giorgia Meloni Il governo Meloni Ha abolito La tampon tax L'iva Sugli assorbenti Storica Battaglia di sinistra Che la sinistra Non ha mai fatto Mentre il governo Meloni Neanche i primi 100 giorni E subito Hanno abbassato Quasi azzerato L'iva Sugli assorbenti Quindi Tutti a dire Saverio Hai ragione Effettivamente Giorgia Meloni Fa cose di sinistra E io invece È da allora Che sono preoccupato Perché ora Che Giorgia Meloni Ha tolto L'iva Sugli assorbenti Ha fatto Anche cose buone E no eh Comincia così eh Qua ci manca Solo una bonifica Ragazzi Ed è finita Stiamo attenti Teniamoci strette Le nostre paludi Mi raccomando Resistenza 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 Non lamentiamoci Dele zanzare Quest'estate Va bene Che qui è un attimo Qui è un attimo Manca davvero poco Tutti ovviamente Ad Come dire A recriminare Ad accusare Di questa situazione Gli astensionisti No? Coloro che si sono astenuti Coloro che non hanno votato Smettetela Per favore Se avessero votato Più persone Semplicemente Giorgia Meloni Avrebbe avuto più voti Questo sarebbe successo D'accordo? Il problema non è L'astensionismo L'astensionismo È un dato che ci ha distratto Da un altro dato Un dato molto più importante Che racconta Molto meglio Dell'astensionismo La situazione politica E sociale del nostro paese E cioè il 25 settembre 2022 Il giorno delle ultime elezioni In Italia È stato registrato Il picco D'accessi Al sito pornografico Pornhub Più 35% Non accadeva Da 10 anni Ecco dove erano Tutti quegli astensionisti Erano a casa A fare di meglio Il 25 settembre Le categorie più ricercate Su Pornhub In Italia Sono state Donna Madre Cristiana E Giorgia Praticamente I classici Video con le MILF Acronimo Che sta per Mother I Like Fratelli d'Italia Dunque Aggressioni fisiche O verbali Allora Aggressioni fisiche No Fortunatamente No Mi ricordo una volta Per un servizio Comico Satirico Che feci Per strada Si ci fu Un neofascista Che mi ha messo Una mano al collo Ma non ha stretto Ma non ha stretto Quindi eccomi qua Anche se forse Questa voce È dovuta al fatto Che mi ha messo La mano al collo E quindi Da quel momento Mi ha messo Questo suono qui E invece Aggressioni verbali Ma proprio dal vivo Dal vivo Una volta Mi ricordo Una signora Anziana Che sa come Ha finito Una signora Anziana Durante il mio spettacolo Ma era proprio All'inizio Quando non avevo Una fama Che mi precedeva Quindi magari L'oggetto Finiva lì quasi Per caso Mi ricordo Stavo facendo Battute Era uno sfondo Religioso Credo Non mi ricordo Comunque Fatto sta Che la signora Disse Si alzò in piedi E gridò Dovresti andare Da un esorcista E io dissi Ci sono andato Quando ero bambino Il prese E quindi E la signora Quindi si è alzata E se ne è andata Altrimenti Altre aggressioni Verbali Ma guarda Principalmente Sui social Quelli si insulti Minacce Ma quelli Facciano parte Del gioco Ma ovviamente La paura più grande Credo di qualsiasi comico Non solo mia È quella Di non riuscire Più a essere divertente In qualche modo Cosa a cui Forse in realtà Cioè Forse è una cosa Da chi qui Non corro il rischio Perché appunto Sono condannato A essere ridicolo Dal DNA Dalla fattura Di cui sono fatto Quindi alla fine Anche soltanto Vedendomi Storci un sorriso E Quindi Bah Forse è La più grande paura A questo punto Non lo so Cascare Dal palco Ti fai male Dunque Sono successe diverse cose Dall'ultima volta Che ci siamo visti Un po' Di vicissitudini personali Per cui ho dovuto Traslocare Ho cambiato casa Adesso Abito in un appartamento Più piccolo Rispetto a quello Qui stavo prima Molto più piccolo Anzi più che piccolo È attillato E mi sta anche un po' Stretto in vita È anche un seminterrato Molto seminterrato Considerate che Alcatastro Non è neanche registrato Come appartamento Ma come era geologica Il precedente Inquilino Era uno speleologo Che lavorava da casa I miei vicini di casa Sono dei resti Di alcuni martiri cristiani Del secondo secolo Dopo Cristo Ma devo dire Che mi ci trovo bene Davvero Anche perché Il peggio è passato Il peggio È stato entrare In quell'appartamento E non perché Io abbia dovuto scavare No Ma perché ho dovuto Traslocare E qui senti già La tensione C'è qualcuno fra voi Che ha traslocato Di recente Tu hai traslocato 20 volte Regia Seguimi Come fai a essere ancora vivo Il trasloco Diciamoci in verità È l'esperienza Più traumatica Che possa accadere A un essere umano È un'esperienza Dolorosissima Proprio Fisicamente parlando Ovviamente Seconda solo Al parto Che però Se ci pensate È un altro trasloco No? Per il nascituro E in quel caso È il più traumatico Dei traslochi Perché in quel caso Lo sfratto Non ti arriva Tramite PEC Ma tramite le pareti Della tua casa Che si contraggono E la padrona di casa Che ti sbatte fuori È tua madre E dopo soltanto Nove mesi Ma quando il minimo È un tre più due La stronza La stronza La stronza Il problema Del trasloco È che poi Tutte le volte Che noi cambiamo casa In realtà Riviviamo il trauma Della nascita Questa è la verità Perché Tutte le volte Che noi cambiamo casa Riarrediamo Ristrutturiamo Ritinteggiamo In realtà Stiamo cercando Di ricreare Quell'unica casa Dalla quale mai Saremmo voluti andare via L'utero Ma per quanto Ristrutturiamo Per quanto Ritinteggiamo Per quanto Riarrediamo Nessuna casa Sarà mai come l'utero Con le pareti di placenta Le cascatelle Di liquido amniotico Ma soprattutto Con una figa All'ingresso Nessuna casa Ha una figa Lì All'ingresso A grandezza naturale Sono stato a vedere Anche gli appartamenti Qui a Milano Al Bosco Verticale A City Life Quelli dove abitano In Ferragnez All'ingresso Hanno una porta Non hanno una figa Lì All'ingresso E forse però È meglio così È giusto che sia così Perché altrimenti Avessimo avuto tutti quanti Una figa Lì all'ingresso Non ci saremo mai mossi Da casa Saremmo rimasti sempre lì Sull'uscio A fare Io esco un attimo E Ah ho dimenticato le chiavi Dientro Ecco Prese Al telefono Così Sull'uscio Tutta la vita Ma soprattutto Diciamoci la verità L'utero Aveva il miglior servizio Di food delivery Al mondo Altro che Deliveroo Altro che Giastitti Il cordone Ombillicale Con il cordone Ombillicale Non dovevi neanche Telefonare Per ordinare Col cordone Ombillicale Non ti dovevi neanche Alzare dal divano Per aprire A quel cazzo Di rider Col cordone Ombillicale Il cibo Ti aveva direttamente Sparato in pancia Non dovevi neanche Masticare Il massimo Della sedentarietà Il sogno Di un ciccione Meraviglioso Meraviglioso Il problema È che noi Non riusciamo Ad affrontare I traslochi Perché non siamo Educati Ad affrontare Un trasloco Non siamo Educati psicologicamente Anzi esistono Un sacco di fake news Di leggende urbane Sul trasloco Che non ci aiutano Certo ad affrontarlo Nel migliore dei modi Per esempio Una cosa che ti dicono sempre Tutte le volte che fai un trasloco Ti dicono sempre Guarda Mettiti l'anima in pace Perché durante un trasloco Qualcosa andrà perso Qualcosa andrà rotto Qualcosa non troverai più Non è vero Non è vero È esattamente Il contrario Dopo un trasloco Ti ritrovi con della roba Che neanche sapevi di avere Io dopo quest'ultimo trasloco Mi sono ritrovato Con l'enciclopedia britannica Mai avuta Mai avuta L'enciclopedia britannica Un corredo di lenzuola Io Un servizio di piatti Da dodici Emanuela Orlandi Non è roba mia Non è roba mia Non è roba mia Beh La cosa che avrei voluto Sentirmi dire Quando ho iniziato La carriera Sarebbe stata Non lo so Non lo so in effetti Quando poteva essere Un buon consiglio Paolo Villaggio Una volta mi disse Vai all'estero Forse avrei dovuto Accettare quel consiglio Per esempio Lui in effetti Ero un maestro Ero un maestro